A Lago Rosso con un record di 10 incontri vinti su 19 disputati per il team Guayupaco di Astarita di Aosta del maestro Giolata Astarita, Mike Astarita Mike Astarita All'angolo blu con due incontri vinti su quattro disputati per il team Underdog Brescia del maestro Andrea Fontana Rosario Blesio Rosario Blesio Rosario Blesio I referi dell'incontro Maurizio Angoscini K1 categoria 5,7 kg 3 riprende da 3 minuti Rosario Blesio Rosario Blesio Rosario Blesio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dunque vince il titolo nazionale VFC per la categoria 57 kg. Ai punti l'angolo rosso Mike Asterita. Grazie a tutti. Franco Scorrano, presidente UFC e UBFC.